spaghetti di pixie spaghetti di pixie spaghetti di pixie spaghetti di pixie ok perfetto sei arrivato al momento giusto prendi il pennello diamo una mano di vernice a questa ragazza sì il mio secondo nome è vernicio a parte per almeno 8-12 ore ininterrotte voglio sì 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 che ne dici di un bel arancione ordine 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 se provassimo di nuovo spaghetti di pixie spaghetti di pixie MK MK ordine ordine MK caspita Enkey sei proprio uno straccio stanco? che cosa no sto bene devo soltanto chiudere gli occhi per un paio di secondi secondo me stai esagerando Enkey lavori tutto il giorno fai festa tutta la notte vernici barche non va bene per un ragazzo della tua età ti devi anche riposare è solo che non voglio deludere i miei amici voglio dare una mano al locale fare i lavoretti con Sandy e festeggiare con ma 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 ei ma ei ma è complicato io sono soltanto uno peccato che tu non possa creare cloni come Re Monkey una delle 72 trasformazioni di Re Monkey strappa un ciuffo di capelli soffiaci sopra ok e appariranno delle scimmie cioè volevo dire che appariranno dei cloni perfetti di te esattamente quello che avevo previsto oh santo cielo è proprio identico a me oh oh questo risolve tutto ora posso finalmente essere in ogni posto in ogni momento grazie signor Tang non ce l'avrei fatta senza di te se non fossi così rilassato e tranquillo probabilmente sarei preoccupato per le conseguenze grazie a tutti